L'occasione è rara nella vita ma la prontezza ha fatto il resto. Le spettacolari immagini che stiamo vedendo sono state girate da alcuni bellunesi in vacanza in Islanda e mostrano l'eruzione di fessura nei pressi del vulcano Litli Rutur appena formatosi il 10 luglio. Matteo Dallefeste ed Erika Pison entrambi di Belluno raccontano Non ci aspettavamo di avere l'opportunità di assistere a un evento simile proprio un giorno prima del ritorno a casa. Abbiamo cercato di raccogliere quante più informazioni per capire se ci fosse un modo di assistere a questo spettacolo della natura in sicurezza per raggiungere il luogo dell'evento raccontano. Abbiamo dovuto percorrere a piedi quasi 20 chilometri tra andata e ritorno. Come possiamo vedere dalle immagini ne valsa la pena.